dove percorrevano il ponte come medita Egle a cura di Vubbi adesso era di nuovo nella scuola e davanti al maestro si avviarono verso la stanza dove percorrevano il ponte che li conduceva nei piani di esistenza più sottili Egle attraversava quel ponte in modi diversi secondo i suoi stati d'animo Ma durante la meditazione non pensava quasi mai a se stessa tanto che all'inizio si meravigliava di aver raggiunto subito l'astrazione dal mondo fisico Molto tempo dopo sentì che la meditazione le era di solito favorevole perché l'assentarsi da se stessa le era divenuto naturale Favorevole in che modo? Nell'unico modo possibile Egle evadeva in una unità inimmaginabile dove la separatività io-tu, tu-io era superata e lei si fondeva in una realtà che aveva colori simili ai suoi che non erano mai oscuri o grigi ma gialli di un giallo color oro chiari, luminosi le cui vibrazioni la espandevano ancora in altri esseri Egle pensava così mentre il maestro si voltava verso una donna che si era affacciata sulla porta Le fece cenno di entrare La donna era minuta e aveva un'aria intellettuale Strinse forte la mano di Egle «Questa amica si chiama Morena», disse Calaco «e oggi mediterà con noi» Si sedettero sui tappetini vicini alla stufa Morena si era posta di fronte ad Egle e la guardava intensamente rigida, con le mani intrecciate in grembo pareva a disagio A un cenno del maestro iniziarono la meditazione Egle pronunciò nell'intimo la sua invocazione e per unirsi a Morena, che avvertiva sofferente invocò le sue guide con la sua frase «Maestri, come vi amo?» in Morena Se ripeteva più volte questa frase Egle metteva in discussione nei suoi corpi superiori le categorie che le usava normalmente come pensare, ragionare, dedurre e affondava in una spirale in cui entrava in una unione ineffabile con la persona che aveva nominato Era possibile? Era possibile perché avveniva?